Rimane in carcere dunque il 32enne castelvetranese Gaspare Favara, sottoposto nei giorni scorsi a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio di Vincenzo Adamo Favoroso. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, Francesco Parrinello, al termine dell'interrogatorio effettuato nel carcere di Trapani, dove l'uomo si trova rinchiuso, accolta la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Maria Milia. Oggi si sono svolti i funerali di Vincenzo Adamo Favoroso. Il feretro è stato portato a spalla dagli amici all'interno del rettangolo di gioco dello stadio Paolo Marino. La vittima faceva parte del gruppo Old Fans, gruppo storico Folgore Castelvetraneo. Proprio tra le fila della formazione calcistica locale, in passato Favoroso aveva anche militato. L'autopsia, intanto che è stata già effettuata, avrebbe rivelato come sia risultato fatale il colpo di fucile a cannamozze che ha colpito al petto Vincenzo Adamo Favoroso. Autopsia che dunque avrebbe fornito una conferma di quanto già era apparso fin troppo chiaro circa le cause della morte. Nel frattempo le indagini proseguono in maniera intensa. Il fatto di sangue si sarebbe verificato nell'ambito di quella che a tutti gli effetti doveva essere una serata tra amici che giocavano a carte. Otto in tutto le persone che, quanto pare, si trovavano all'interno dell'abitazione. Poi lo sparo, udito da qualche vicino di casa che probabilmente, non sapendo cosa fosse successo, ha comunque pensato di allertare le forze dell'ordine. Sparo che non si capisce ancora se si è scaturito o meno da una discussione. Gli inquirenti ed investigatori hanno già sentito tutti i possibili testimoni. C'è stato chi? C'è un vito italiano, amico della vittima, raccontato di aver assistito al momento nel quale Gaspari Favara avrebbe sparato contro Vincenzo con un fucile a cannamozze. E nelle scorse ore a Caselvedrano c'è stata un'altra tragedia, benché di natura diversa. Un muratore di 50 anni è morto a seguito di un malore che lo ha accolto mentre si trovava in strada in via Partanna, intento in una disputa familiare. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ma al grado l'intervento tempestivo gli operatori sanitari di un'ambulanza del 118 non sono riusciti a rianimarlo.